L'associazione culturale Il Dono di Enrico nasce dal ricordo di un ragazzo che ha combattuto una dura battaglia contro un tumore, battaglia persa in partenza perché la malattia era ed è tutt'oggi incurabile. Lo scopo, la mission dell'associazione è quella di fare raccolta fondi per beneficenza da destinare alla lotta contro il tumore, da destinare ai residenze che ospitano i familiari dei pazienti oncologici fuori sede e tutte quelle strutture ospedaliere che combattono questa battaglia in prima persona. Contemporaneamente la nostra associazione intende promuovere la cultura giovanile attraverso una serie di eventi di cui quello di Giulianova del 23 e 24 luglio in Piazza del Mare è il principale, il nostro memoria annuale. Le due serate sono strutturate in modo di far divertire tutte le persone che vengono, in modo per portare musica e allegria, in particolare nella prima serata daremo spazio a 15 artisti emergenti abruzzesi del panorama rap e daremo come premio in questo contest la possibilità di cantare appunto con Mondo Marcio. Mondo Marcio che è uno dei rapper più importanti del panorama rap, conosciutissimo ovviamente dal lontano 2005 e quindi per noi è un grande moto d'orgoglio. Poi ci saranno anche i due DJ set, uno il venerdì sera di Cristian Salvati e l'altro invece il sabato sera dei due DJ famosissimi, anche e soprattutto terramani, quindi un grande orgoglio per noi, Marini e Ferrara. Quindi mi raccomando, vi vogliamo il 23 e il 24 luglio a Giulianovalido in Piazza del Mare.